buongiorno amore sei beccato è normale e qui la sua non stai andando eh vabbè ma io vengo sempre da mia nonna sempre ma che stai cucinando te sto facendo due vaffalle camberetti e rugol ti piace? come? e ora devi arrivare subito ok qua abbiamo messo anche già la ventola la ventola aspettiamo che che ascia a bollire che mettiamo a fare i camberetti adesso aglio e peperoncino allora a me non metto peper metto peperoncino ok aspettiamo che aspetti che te lo faccio presto presto Angela l'abbiamo fatto fritto ora devi cambiare i camberetti lasciamo soffrire un poco come si chizza? è chizza perché ma con l'acconcini ecco e mettiamo un po' di vino bianco vino bianco però il vino bianco è associato sempre a pesce sì a tutto a pesce specialmente a pesce sì ma pure quando fai la genuese quando fai un raguccio o il vino rosso il vino cazzecca tutto fatto ah purtroppo ho mangiato un bicchiere di pesce è capito la tia Teresa no no che non piace no no che non piace a me non piace e vabbè aspettiamo ecco qua mettiamo il vino con i pomodorini e poi dopo i pomodorini c'è un modino bianco ecco qua mettiamo 5-6 un po' di sale e non ha fame e non mi fai fare ecco ecco Quindi a mezza cottura, più o meno, li diamo? No, io faccio una cottura così. E iniziano a prendere già il sapore. A due quanti mani, che mattina? Sì. Facciamo giù un po' con la crema. E con me la faccio un marzo. Guarda, non sono bello. Sì. Diamo un po' di rocana, mettiamo sopra. Ora ti faccio mangiare. Che bontà. Dice la verità. Ecco qua, Angela, ti ho fatto. Vedi, ora vediamo come sono. Buoni? Buonissime. Favorito, capo consulato.